È stato aggredito e accoltellato da due ragazzi a 100 celle, si è salvato solo perché con prontezza di riflessi è riuscito a trovare riparo nella stazione della metropolitana vicina. Tornato al centro d'accoglienza è stato poi trasportato in ospedale, vittima un diciottenne egiziano, a colpirlo sono stati due connazionali in manette. È finito un suo conoscente, non ancora maggiorenne, tutto è avvenuto ieri sera intorno alle 19 in piazza dei Mirti dove le volanti della polizia sono arrivate dopo la richiesta di intervento al 112 per un'aggressione fisica. Sul posto i poliziotti non hanno trovato nessuno, subito dopo è arrivata una nuova richiesta alla sala operativa per un ragazzo con evidenti ferite d'arma da taglio, rientrato da poco in un centro d'accoglienza della periferia est della capitale. Il ragazzo ha raccontato ai suoi educatori di essere stato aggredito da due connazionali, fra i quali un ragazzo ospite della sua stessa struttura. Ai poliziotti ha fornito le immagini del profilo social dell'altro in fuga, sono partite le ricerche, in breve è stato individuato e bloccato con gli abiti ancora sporchi di sangue.